A carezza per un tempo, quella iniziale l'idea di vincere la prima partita in questo campionato in occasione dell'esordio casalingo in Serie C, poi riesce almeno ad evitare la sconfitta in pieno recupero. Pareggio bis insomma per il Potenza che fa 2-2 al Viviani contro il sempre ostico Monterosi. Secondo punto per i padroni di casa dopo quello del Degli Ulivi di Andrea contro la Fidelis, imbattibilità confermata per i Laziali dopo il netto successo del battesimo ufficiale contro il Cerignola. La partita entra subito nel vivo, le contendenti si danno immediatamente del 2 e dopo una chance per parte nei minuti iniziali. Ecco il vantaggio di Rosso-Blu, scesi in campo in maglia bianca, Di Grazia riceve la sfera, avanza a palla al piede, fa centro con un raso terra a mancino che sorprende così l'estremo ospite. Potenza in vantaggio dopo una decina di minuti, la reazione del Monterosi arriva poco dopo il quarto d'ora, Mbende di testa non c'entra il bersaglio, la gara è parecchio vivace, i padroni di casa giocano con ottima personalità e non disdegnano la conclusione della distanza, calcia debolmente dalla parte opposta invece parlati per gli ospiti. Finale di tempo, in pieno recupero il portiere dei Laziali a deviare in corner, una traiettoria davvero beffarda. Duplice fischio, intervallo, Codi Lucani avanti di un gol. Monterosi ad un passo dal pareggio in avvio di ripresa, la traversa salva gli uomini di Siviglia sul colpo di testa di Piroli, poi nessuno degli ospiti è reattivo sul tapin. Può colpire in contropiede il Potenza ma Alia tiene in partita i suoi, non perdona dalla parte opposta a metà frazione invece Costantino che pareggia i conti con il quarto centro per lui in due partite di questo campionato dopo la tripletta al Cerignola, 1-1 al Viviani. Sfrutta l'onda dell'entusiasmo la squadra di Menichini che tre minuti dopo mette addirittura la freccia, l'azione corale, si conclude con il sorpasso siglato in acrobazia da parlati. Momento terribile per il Potenza che prova a scuotersi, il nuovo entrato Volpe calcia sull'esterno della rete, spinge sull'acceleratore la squadra di casa affidandosi anche ai tiri dalla distanza per evitare la sconfitta, bravo nel secondo caso Alia a deviare la traiettoria in calcio d'angolo, poi sale in cattedra il nuovo entrato Schimmenti, prima non c'entra il bersaglio con la soluzione raso terra successivamente sulla palla recuperata da Belloni, si procura un calcio di rigore, espulso nella circostanza Capitan Piroli dal dischetto però Emmausso si fa respingere la conclusione da Alia, sembra finita e invece no, dopo un altro clamoroso intervento del portiere ospite sull'acrobazia dello stesso Emmausso e Belloni nel sesto minuto di recupero a trovare l'acuto del definitivo 2-2 esplode di Gioia e Viviani per un punto comunque prezioso e meritato, mercoledì si torna già in campo per il torno infrasettimanale potenza di scena agli ore 21 in trasferta contro la matricola Gendison